Dai cazzo, e dai, e dai, e dai, perché mi dovete far soffrire con lo spezia? Perché? Perché mi dovete far soffrire con lo spezia? E dai, e dai, Oliviero, che cazzo ti fai ammonire, Oliviero? Dai, dai, Pioli, Pioli, non me lo devi fare il turnover, non me lo devi fare, non devo soffrire con lo spezia in casa, che poi mi riduco gli ultimi minuti, che non si gioca a calcio gli ultimi minuti, non si gioca a calcio gli ultimi minuti, lo vuoi capire? Perché prima sistemi la partita, dopo fai il turnover, non fai prima il turnover, adesso hai fatto riposare Giroud, cosa ti serve che hai fatto riposare Giroud? Tanto non gioca con la Cremonese, perché è stato espulso, devo stare 90 minuti con Cronici in campo, 90 minuti con Cronici in campo, non me lo fare il turnover, mancano due partite, non farmi più vedere il turnover, tutti i migliori devi mettere, quelli con la miglior qualità, dimmi te se io devo andare a soffrire con lo spezia, dimmi te, dimmi te se devo andare a soffrire con lo spezia, tra l'altro gol che annullano solo a noi, solo a noi annullano un gol così, con un fallo di due azioni prima, va bene, giusto, è fallo, è fallo, è fallo, però sei zitto te, è fallo, però voglio vedere che me li danno anche a me quei falli là, perché a me non me li danno mai, mi dico no, non puoi intervenire, perché è intervenuto? L'arbitro non l'ha visto? L'arbitro non l'ha visto? Perché quando a me non interviene? Mamma mia che sofferenza, mamma mamma, sono troppo, sono ancora adrenalinico, sono ancora adrenalinico, 100.000 ammoniti, volevano prendere tutti, che esco quell'altro inutile, quell'altro inutile, quello è il giocatore inutile, nella squadra inutile, nelle partite inutili, Daniel Maldini, ma cosa stai facendo? Non fai un gol nella tua vita, un gol fai nella tua vita contro di noi, cioè un gol fai in tutta la tua carriera di calciatore, un gol fai e lo fai contro di noi, ma sei scemo? Cioè io non lo so, cioè giocano con i nostri giocatori, Caldara gli abbiamo prestato a noi, e gli paghiamo pure metà stipendio, Maldini gli abbiamo prestato a noi, non so se gli paghiamo lo stipendio, può darci, ma intanto prenderà 200.000 euro, cioè questi qua con i nostri giocatori dobbiamo perdere noi, mamma che veramente, meno male che abbiamo visto, meno male che... Che gol ha fatto Girù? Che gol ha fatto Girù? Che gol ha fatto Girù? Meno male, hanno fatto un gol Tonali, paura, gliel'ha annullato, un gol Girù, meno male che l'ha sistemata, mamma che nervoso che c'ho addosso, madonna, non riesco a stare fermo, sono troppo nervoso, vedi che non riesco a stare fermo, sono troppo nervoso, ero maschinato a un compleanno, sono andato via per vedere la partita, sono ancora nervoso, sono ancora adrenalinico, meno male, guarda, meno male che l'abbiamo portato a casa, Napoli ha vinto, io sono contento, Napoli deve vivere, finché rimane più 8 dall'Inter va bene, noi abbiamo vinto, con la Cremonese, titolare, con la Fiorentina, vengo a San Siro, voglio vedere i migliori, alla morte, tanto che adesso mi tocca vedere pure Balloture con la Cremonese, Balloture con la Cremonese, mi tocca vedere, iscrivetevi al canale, mettete subito un like, iscrivetevi, ci vediamo domani per l'analisi, che sono ancora adrenalinico, ho i capelli come un pazzo, più lì, basta turnover, basta, basta